che stai facendo non farmi scoprire sei nascosta dietro carta e penna è un bel posto nascondiamoci il suo armadietto è aperto devi controllarlo scopri cosa gli piace e spia il suo orario non posso guardare nell'armadietto di un ragazzo è come scrutare nel suo cuore ad esempio il mio è pieno di libri pallosi e quello di crispo di uva passa esatto devi scoprire tutto su di lui per vincere la paura ok vado e lo faccio auguratemi buona fortuna l'armadietto era una finestra sulla sua anima c'era una giacca verde un cappello verde dei poster di arti marziali dappertutto e ho dimenticato il libro di storia un libro di storia via dall'armadietto la riga che fai fretta rimpicciolissi dovevo solo cercare di rimanere calma pensare in maniera razionale trovare una via di fuga e niente panico